Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Bernabè, allora cominciamo con la nuova leader dell'opposizione, Elie Schlein, che guida adesso, dopo aver vinto le primarie, il Partito Democratico. Oggi ha incontrato il suo sfidante Bonaccini e entrambi sono molto d'accordo sul fatto che bisogna andare avanti uniti e bisogna andare avanti spediti. Intanto, che tipo di leadership è quella di Elie Schlein, secondo lei? Anche perché, per esempio, ha detto che ci vuole il salario minimo, uno stop al precariato, la transizione ecologica. È troppo estremista? Guardi, l'arte del governo consiste nel definire gli strumenti per arrivare a certi obiettivi. tutti vogliono un mondo migliore, un mondo dove si lavori di meno, si guadagni di più, che sia pulito, però la differenza in termini politici sta nella capacità di definire gli strumenti attraverso i quali si raggiungono quegli obiettivi. E quindi è troppo poco precisa, è troppo poco dettagliata ancora la Schlein? Per il momento è difficile dire, perché enunciare quel tipo di obiettivi credo sia abbastanza facile, soprattutto se uno è all'esposizione. Poi vedremo nel momento in cui si manifesterà la capacità di governo. Ecco, l'unico rischio è che vengano dimenticate le cose importanti che il PD ha fatto al governo. L'aumento dell'occupazione è in parte dovuto a molte riforme fatte da governi a guida PD. Anche il Jobs Act, perché contro il Jobs Act l'Ishlein ha sparatrata. Il problema è che vanno viste le riforme nelle conseguenze che hanno ottenuto. Negli ultimi sette anni l'occupazione è aumentata di alcuni milioni di posti di lavoro e non sono posti di lavoro precari. E le riforme dai quali nascono questi posti di lavoro sono originate nella metà degli anni 10, cioè nel 15, 16, 17, sono la riforma relativa all'industria 4.0, il superammortamento, il patent box, cioè tutte quelle riforme che hanno costruito la capacità dell'industria di reagire alla crisi. Quindi trova Eli Schlein un po' troppo ideologica? Le piace medio? Ma guardi, no, ideologica non vuol dire niente, perché l'obiettivo del marketing politico è di conquistarsi una fetta di elettorato. Ora, dipende da quale fetta di elettorato Eli Schlein vuole conquistare. Se vuole andare a pescare nell'elettorato del Movimento 5 Stelle, riducendo probabilmente ancora di più l'area della sinistra, o se vuole espanderla allargandosi verso il centro. L'area di 5 Stelle è ben presidiata oggi. Non so se andando a presidiare quell'area lì si allarga il campo della sinistra o meno. Che grande domanda.